Primo tavolo istituzionale questa mattina in regione a Pescara chiamato a fronteggiare l'emergenza provocata dal Caro Energia ma anche dedicato allo studio delle misure più urgenti in materia di transizione energetica e aperto alla partecipazione delle forze imprenditoriali e sindacali abruzzesi. Si è parlato in generale della questione Caro Bollette, presenti i rappresentanti delle varie associazioni di categoria e gli assessori regionali Campitelli e Damario. Ci troviamo tutti nella stessa barca ma nemmeno possiamo illudere che il costo energetico possa diprendere da delle scelte regionali. Qualsiasi sgravio che la regione potrebbe essere e potrebbe mettere in campo sarebbe sicuramente limitato dal punto di vista del tempo ma anche dal punto di vista della quantità quindi potrebbe essere rappresentata soltanto una goccia all'interno di un oceano. È chiaro che parliamo di un tema che ha una valenza nazionale se non addirittura internazionale. Noi ci faremo portavoce di quelli che sono gli interessi e affinché possiamo tutelare quelle che sono le realtà, il tessuto produttivo abruzzese e i cittadini abruzzese. È chiaro che dobbiamo ragionare nel lungo periodo, lì con noi come regione Abruzzo siamo assolutamente presenti per una programmazione per far sì che gli abruzzesi possano diventare autosufficienti dal punto di vista energetico però c'è un'emergenza attuale, c'è quella di domani mattina di pagare una bolletta che è triplicata dove soltanto la regione Abruzza sola non può farcela. Noi chiediamo aiuto al governo, al nuovo governo, al governo attuale e mi auguro a breve anche il nuovo governo nazionale e anche a livello internazionale affinché in effetti si possa mettere rimedio a questa tempesta perfetta tra pandemia e guerra in Ucraina che comunque ha portato i nostri cittadini non solo abruzzesi ma nella nostra nazione veramente con le spalle al muro. Il presidente di Confessercenti Pescara Marina Dolci ha illustrato alcune delle richieste fatte alla regione dalle associazioni. Sul tavolo abbiamo messo tante proposte di aiuti che vogliamo per le nostre imprese e soprattutto anche per i nostri lavoratori e quindi anche le famiglie. La regione ha accolto, studierà queste nostre richieste e ci ha dato dei tempi un po' lunghi quindi aspettiamo un secondo tavolo che speriamo ci sia a breve. Noi abbiamo chiesto tante cose come ad esempio anche per un periodo abolire il bollo auto, l'abbassamento dell'IRAP, invece l'incremento del credito di imposta per le aziende che si può anche girare anche per le famiglie se si possono detrarre dalle tasse le bollette e quello che noi andiamo a pagare. Non usciamo col sorriso. Io avevo chiesto all'assessore mi fa uscire col sorriso? Non ci siamo ancora riusciti. Mi auguro il prossimo tavolo di poter ottenere qualcosa.